Al via dalle ore 8 del 22 gennaio prossimo le iscrizioni online per l'anno scolastico 2016-2017. Ci sarà poi un mese di tempo fino alle 20 del 22 febbraio per scegliere la scuola più adatta ai propri figli. Queste le date individuate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è disponibile la circolare sulle iscrizioni. Ci sarà tempo dalle 8 del 22 gennaio alle 20 del 22 febbraio per iscrivere i propri figli al primo anno della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, attraverso la procedura online prevista dal Ministero. Le iscrizioni online riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali. L'adessione delle scuole paritarie al sistema delle iscrizioni online resta facoltativa anche quest'anno. Confermata l'iscrizione cartacea per la scuola dell'infanzia, che potrà essere effettuata sempre dal 22 gennaio al 22 febbraio prossimi. Per effettuare l'iscrizione online va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il MIUR ha ulteriormente rinnovato il portale Scuola in Chiaro, che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane. Dal 15 gennaio ci si potrà registrare al sito e da questa data si potranno esplorare tutte le informazioni sulle scuole e su come iscriversi. Dal 22 gennaio al 22 febbraio sono aperte per i ragazzi di terza media le iscrizioni alla scuola superiore da fare sul sito. Il MIUR comunica che le famiglie, una volta effettuata la registrazione, saranno avvisate in tempo reale e via posta elettronica dell'avvenuta registrazione dello stato della domanda di iscrizione alla scuola superiore, che può essere seguita passo dopo passo sul sito. Ma non solo, sarà inoltre possibile seguire in ogni momento l'iter della domanda attraverso un'app dedicata.